A bordo campo serie B e questa sera parliamo finalmente della prima vittoria storica del Latina dopo tre pareggi consecutivi. Finalmente sono arrivati i tre punti per mister Breda e i suoi e ne parleremo con un ospite d'eccezione, un centravanti ammiratissimo da tutti negli anni 90 che ancora ricordiamo tutti. Oggi è un allenatore in cerca di panchina che presto troverà perché le persone che hanno talento non possono rimanere poi senza allenare a lungo e senza lavorare. Abbiamo Pasquale Luiso e il Toro di Sora. Ora io mi permette sempre di chiamarti così mister perché il Toro ti sei rimasto ormai alla storia. Mi chiamano sempre così. Questo soprannome poi ti è sempre piaciuto no? È arrivato dall'inizio della tua carriera quando sei partito. Sì 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 sì. Sono andato via da sola e sono arrivato al Torino e niente me lo... Sempre il Toro sei rimasto poi lì. Me lo sono portato a preso. E abbiamo da Latina una nostra ormai vecchia conoscenza nonostante la sua giovane età un 89. Matteo Bruscagin. Ciao Matteo come stai? Ben ritrovato nei nostri studi. Ciao a tutti, buonasera, sto bene, grazie. Tu che fai parte della vecchia guardia io faccio i complimenti anche a te perché grazie anche a personaggi come Matteo Bruscagin che in Latina può quest'anno vivere l'emozione della Serie B. E buonasera anche a Domenico Ippoliti. Buonasera, buonasera a voi e al bomber Luiso. Tu lo ricordi eh? E come no, come no. Ma anche Matteo lo ricorderà. Eh certo. Lo avevo al pantacalcio Aurora. Guarda, anche io se lo avessi ora, mister, tutta la vita al pantacalcio ti metterei. Sì, è vero. È più facile. Peccato che non ci sei ora. Adesso è più facile. Eh sì. Vi ricordo il numero per interaggere con noi, 331 12 45 625, 331 12 45 625. Fateci sapere cosa ne pensate di questa prima vittoria del Latina in casa contro il Brescia e poi scriveteci su Twitter a Chioccio o a Teleuniverso TV oppure utilizzando l'hashtag Bordocampo Serie B. Allora Domenico, una bella emozione sabato al Francioni. Beh direi bellissima Aurora. Sia per il risultato, perché per la prima volta Latina è passato in vantaggio, per la prima volta ha fatto due gol nell'arco di una gara, ha continuato a non subire reti, questo è accaduto per la quarta giornata consecutiva e poi c'è stato un pubblico fantastico, un pubblico che ha convinto sin dalle battute iniziali, una curva incontenibile, anche gli altri settori dello stadio hanno partecipato. Si temeva che questa sequenza di pareggi o comunque di mancate vittorie allontanasse un po' il pubblico dal Francioni e invece c'erano almeno 5.000 persone anche nella sfida contro appunto il Brescia e direi che la piazza ha risposto bene e si spera rispondere anche meglio nelle prossime uscite. Ministro, la settima giornata bisognava avere un po' di pazienza, no? Ma sì, sicuramente. Cosa che non si ha troppo. No, per quanto riguarda gli allenatori no, si vuole subito tutti i risultati, ma d'altronde è il nostro mestiere, se non fai i risultati chi paga è sempre il mister, però sono contento della prima vittoria del Latina, sono contento del lavoro di Breda perché al di là che non riusciva a vincere ma non prendeva neanche gol e non perdeva, è arrivata questa vittoria e sono contento sia per Breda che per il Latina Calcio. Breda che tu lo conosci perché ci hai giocato contro, no? Eh sì, sì, ho fatto diversi, sì, l'ho incrociato diverse volte con la Sanitana, con adesso non mi fa ritorna dietro con la mente, non mi fa sforzare. Perché tu poi tutte le tue squadre, poi parleremo comunque meglio anche di te. Matteo, vengo da te anche dopo, però guardiamo prima il servizio, quindi il primo successo storico del Latina a Francioni contro il Brescia. L'attendivano da tanto tempo, è arrivata alla settima giornata. Il Latina sfata il tabù vittoria cogliendo il suo primo storico successo in B al cospetto del Brescia targato Maifredi dopo il turbolento addio di Giampaolo. In avvio di gara, mister Breda presenta i suoi con un 3-5-1-1, in avanti Jonatas con crimi sulla tre quarti, a centrocampo c'è Maltese, dietro Esposito viene preferita Figliomeni. Che sia la giornata giusta per il Latina, lo si capisce, fin dalle prime battute, la squadra di casa infatti parte bene, già al terzo ci prova Maltese, ma il destro dell'ex Viareggio finisce a lato. Il Latina prova a rendersi ancora pericoloso, anche se le occasioni non sono molte. Al 17esimo, su un cross di Alassan, Kukoc sbaglia l'intervento, la sfera finisce a Jonatas che spara alto, però da buona posizione. Gli ospiti intanto faticano a trovare spunti, l'unica azione degna di nota in tutto il primo tempo è un tiro della distanza di Colletti che finisce alto, è il 28esimo. Al contrario invece gli sforzi della Latina vengono premiati al 39esimo con Morrone che spezza un digiuno di gol che mancava dalla seconda giornata contro l'Avellino. Il centrocampista ex-farma infatti riceve un cross al bacio da Figliomeni, da poco entrato al posto dell'infortunato Esposito ed insacca prepotentemente di testa. È l'1-0 con il quale si va a riposo. Ad inizio ripresa si attende la reazione del Brescia ed invece arriva il secondo gol della Latina che mette in ghiaccio il match. Crimi recupera palla a centrocampo, lancio millimetrico per Jonatas che si libera di una difensore e piazza la sfera all'angolo, nulla da fare per Cragno. Il Francioni esplora di nuovo. Sul 2-0 il Latina si difende bene non permettendo agli ospiti grosse sortite. Il Brescia ci prova al 17esimo della ripresa con il neoentrato Sodigna, il suo sinistro viene però respinto da Iacobucci. I Lombardi, nonostante aumentino la pressione, non trovano spazi perché gli uomini di Breda si difendono con ordine e sono pronti a sfruttare le ripartenze come accade con Ristoschi al ventesimo, il suo destro però è preda di Cragno. Gli ospiti invece tornano a rendersi pericolosi ancora con Sodigna alla mezz'ora, il suo sinistro su punizione viene deviato in angolo da Iacobucci. Da qui in poi il Latina continua a controllare agevolmente e porta a casa il successo. La cura Breda dunque funziona, squadra solida e compatta che non prende gol ormai da quattro partite, numeri che fanno ben sperare per le prossime gare. Matteo Bruscagin, questa vittoria è arrivata finalmente e la cura Breda quindi funziona? Sicuramente da quando è arrivato Breda come allenatore abbiamo trovato forse la quadratura del cerchio, abbiamo trovato un po' di compattezza che prima ci mancava, difendiamo molto meglio a partire dagli attaccanti quindi sicuramente anche noi difensori siamo facilitati nel nostro lavoro e poi finalmente domenica siamo riusciti anche a far gol, comunque lo cercavamo con insistenza, siamo stati bravi a crearci le occasioni e a sfruttarle. Ho visto comunque una squadra in netta crescita anche da questo punto di vista quindi sicuramente siamo fiduciosi per le prossime partite. Zero gol subiti in quattro gare per il reparto difensivo deve essere una bella soddisfazione per voi? Sicuramente, sono queste le partite che ci danno fiducia e consapevolezza nelle nostre qualità e dobbiamo continuare su questa strada perché comunque la strada è ancora lunga, dobbiamo fare ancora molti punti per salvarci però con questo atteggiamento, con questa cattiveria e con questo spirito sicuramente è un traguardo alla nostra portata. E Matteo Bruscagin? Sì, vai! Sì, con Matteo subito una provocazione. Eh, quella che è la stessa che volevo fare io, Domenico. Vai, prima tu, vai! I demeriti del Brescia in tutto questo, quanto hanno influito? Perché a me il Brescia è sembrata una squadra un po' allo sbaraglio. Ma sicuramente non abbiamo trovato il miglior Brescia di fronte, è complice forse anche la situazione del loro allenatore che li ha sicuramente un po' distratti in settimana, però penso che siano più i meriti nostri che i demeriti del Brescia, penso a guardare in casa nostra e a fare i complimenti ai miei compagni che hanno fatto un'ottima partita. Benvengano poi i demeriti dell'altra squadra perché una vittoria penso che comunque ridia nuova linfa ad una squadra che appunto cercava questo primo successo in Serie B, ma io volevo chiedere a Matteo che non è nuovo del campionato cadetto perché già a Grosseto tu hai assaggiato la Serie B, come l'hai ritrovata quest'anno? Tu hai fatto il tuo sordio a Cittadella, giusto? Sì, esatto. Ma sicuramente è un campionato molto livellato, più livellato rispetto a tre anni fa quando giocavo a Grosseto. Non vedo squadre che possano ammazzare il campionato, ci sono sicuramente Palermo, Siena, Pescara che sono ottime squadre costruite per vincere, però in queste prime giornate si è dimostrato come tutti possono giocarsela contro tutti, quindi penso che sarà un campionato bello e vincente fino all'ultimo. Tu sei un superstite, sei scampato alla pulizia di Auteri. Rivoluzione, chiamiamo. Sì, però c'è una bella esperienza quest'anno per te, quindi potrai imparare tanto dai tuoi compagni che hanno carriere lunghissime alle spalle, no? Sì, sicuramente, poi penso che lo spazio ci sarà per tutti, poi sta a noi farci trovare pronti quando il mister decide di farci giocare, però sicuramente dai compagni più esperti cercherò di imparare tanto e sto già imparando tanto. Matteo, avevi già provato la difesa a tre? Sì, 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 ci avevo già giocato parecchie volte. Dove? Ma a Pizzighetto, nel primo anno che ho fatto tre professionisti giocavamo con la difesa a tre e quindi non ho particolari problemi. Poi anche l'anno scorso due o tre volte l'abbiamo utilizzata in corso durante la partita, quindi non ci sono problemi. Domenico, questo 3-5-1-1 che avete un po' contestato le altre giornate, alla fine ha dato ragione a Breda che pur sacrificando una punta è andato in gol due volte. Ma sai Aurora, rispetto alla volta precedente è vero che c'era una sola punta di ruolo, però è anche vero che ci sono stati maggiori inserimenti da parte dei centrocampisti, nel senso che Gionatas non ha sofferto di solitudine come magari era accaduto due partite prima. In questo credo che si sia visto il lavoro di Mr. Breda, insomma, una squadra che ha partecipato di più, ha sviluppato un gioco più incisivo, più coraggioso se vogliamo, cosa che magari non avevo visto nella sfida con Lanciano e anche nella trasferta di Padova. E invece si è notato anche dalle azioni che abbiamo appena rivisto, il tentativo di Maltese, l'inserimento dei crimi e poi il contributo ottimo da parte degli esterni. Insomma, una squadra che ha saputo proporsi meglio, con maggiore convinzione e incisività. Tu, mister, che idee li sei fatti di questo latino? Ma io, che idee mi sono fatto? Sicuramente pure il cambio modulo che è cambiato dall'arrivo di Breda, è stato coraggioso. La differenza tra Uteri e Breda? Ma a me Uteri piace. A me Uteri piace. Il gioco, il gioco, il gioco, il calcio, io non ho per nulla togli a Breda. Auteri ha fatto sempre vedere il calcio vero, il suo 4-3-3, 3-4-3, come lo chiamiamo. A me è sempre piaciuto. Non so, forse per me ha mandato via troppi giocatori che avevano fatto la storia con questa maglia. Vabbè qualcuno aveva bisogno pure di essere riconfermato e di poter pure confrontarsi con la B. Sì, so che ha fatto un po' di… Piazza pulita. Forse questo gli rimprovero, però che non sia allenatore assolutamente. Poi è bravo Breda a fargli capire subito il 3-5-2, 5-3-2 chiamiamolo così, oppure avete detto 3-5-1-1. Però sempre avere una punta di peso davanti. Che sta andando tra l'altro molto di moda, oramai in serie A… Anche perché se hai gli esterni e sono veloci, devono rientrare però, sennò poi diventano un disastro. Ecco appunto, infatti per il 3-5-2 è sempre un po' complicato. Va di moda, però è complicato poi farlo in un certo modo. Sinceramente pure io lo sto seguendo e lo sto studiando perché pure a me piace. Ti piace il 3-5-2? Ho giocato sempre. Quindi la prossima volta che… Io ho giocato con… A me piace il 4-2-4. Lo so, ricordo. Però adesso… A te piace il 4-2-4 e il modulo con cui ha iniziato Conte, diciamo, no? Sì, adesso… Hai cambiato con il Siena. Sì, a Bari. A Bari. Sì, ci ho giocato pure Ventura, però quest'anno pure Ventura, vedi, ho sto 3-5-2 che va proprio di… Oppure 3-5-1-1. 3-5-1-1, chiamiamolo 3-5-1-1. Ma tu sacrificheresti una punta? Ma se facci giocare un giocatore dietro che è rapido, che si inserisce, se una punta è abbastanza alta, va pure bene. Non mettere lì due, diciamo così, centravanti veri, così dai due punti di riferimento. Uno dietro non è male, per me è un 3-5-1. L'importante, ecco, come ha fatto pure Breda, è come fa la Juve spesso, gli inserimenti dei centrocampisti. Perché se tu giochi con il 3-5-1-1, vedete, Vidal fa gol, Marchisio fa gol, Bocbà è uno che si inserisce a Fagò. Se si inseriscono i centrocampisti, sì, vedi il gol di Morrone, è uno che si sa inserire. Pian pianino penso che… Eh sì, Pian pianino, Latina sta sposando le idee del proprio allenatore, lo stesso Breda, a dichiararlo in sala stampa. Allora andiamo a sentire cosa ci ha detto subito dopo la vittoria contro il Brescia. Il lavoro che stiamo facendo ha bisogno anche di trovare nei risultati conferma. Perché tu puoi proporre certe cose, ma magari poi il campo non ti dà ragione, lo gioco che diventa difficile. Invece vedo che di settimana in settimana, di partita in partita, i ragazzi ci credono sempre di più in quello che fanno, hanno più convinzione e stanno sposando quelle che sono le idee che gli ho proposto io. Fa piacere perché oggi era importante per tantissimi motivi fare risultato. È importante perché bisogna tenere alto l'entusiasmo di questa piazza, perché oggi sono stati veramente fantastici, però è logico che se porti a casa la prima vittoria questo tanto aiuta. Era importante, ci tenevamo anche per la società, perché ci hanno dimostrato in questi giorni, sempre in tutto il periodo che sono stato io, ma in special modo in questi giorni di capire il momento e di darci una mano. Sono contento ancora perché rimaniamo anche imbattuti dal punto di vista dei gol. Non è una cosa da poco, perché quattro risultati in B non è facile mantenerli. Mantenendo poi anche, o ritrovando dopo la partita di Padova, la giusta pericolosità, perché al di là dei gol abbiamo avuto tante. Altre situazioni importanti dove possiamo far meglio, dove c'è da far meglio, però insomma danno sempre l'idea di poter essere pericolosi in qualsiasi momento. C'è stato da soffrire, però sempre senza andare in affanno. C'è stato da stringere i denti, però insomma penso che sia una prestazione importante. Domenico, una prestazione importante, come diceva il mister Breda? Beh, direi di sì, sul profilo dell'intensità, della concentrazione, è una squadra che non concede nulla e che oltre a, sai, facevamo il discorso un po' della coperta corta nelle precedenti puntate, no? Ci si copriva benissimo, ma non si riusciva a pungere lì davanti. Invece questa volta non dico che il Latina sia stato travolgente dalla cintola in su, però ha comunque saputo far male contro un avversario comunque di tutto rispetto. Si iniziano a intravedere degli equilibri, insomma, tra le due fasi, si inizia a vedere una squadra con una sua identità. Volevo chiamare in causa anche Matteo su questo aspetto. Nelle precedenti uscite non si è visto un Latina troppo coraggioso lì davanti. Non avete azzardato tantissimo? Ma sicuramente in qualche partita si poteva osare di più. In casa con Lanciano, anche nella trasferta di Padova, qualcosina di più in fase offensiva potevamo sicuramente fare. Però è anche vero che le prime partite comunque c'era da riprendere fiducia, c'era da riprendere la convinzione nelle nostre qualità. E sicuramente il fatto di non aver mai preso gol per queste tre partite ci ha aiutato. Come hai detto tu, sabato siamo riusciti a creare di più anche in fase offensiva. Quindi sicuramente si vede che il lavoro che sta facendo il mister durante la settimana sta portando i suoi frutti. Quindi sicuramente dovremo continuare su questo piano, con questo atteggiamento. Ti faccio la stessa domanda che ha fatto Aurora Pasquale Luiso. Le differenze Auteri-Breda, al di là del modulo, anche come approccio è stato diverso? Ma sì, sicuramente è un modo di intendere il calcio forse quasi opposto. Perché comunque con Auteri portavamo tanti giocatori in attacco e sicuramente ci scoprivamo molto di più una volta che perdavamo palla. Invece con Mister Breda abbiamo un uomo davanti alla difesa che aiuta tanto, perché scherma molte traiettorie, va a coprire tante linee di passaggio e ci dà una grossa mano. E sicuramente riusciamo a essere anche, paradossalmente portando meno gente in avanti, riusciamo a essere più pericolosi. E quindi penso che il cambio di modulo forse ci ha anche dato una mano, comunque ci ha dato più sicurezza sicuramente. Voglio che mi raccontiate il pubblico del Francione invece, perché ho sentito anche Breda che eloggiava questo pubblico che non ha smesso mai di cantare. Che impressione ti ha fatto Matteo? Non sei abituato? Sentirli da dentro il campo sicuramente ti danno una grossa spinta, una grossa mano nei momenti di difficoltà. Rispetto all'anno scorso vedo molto più entusiasmo, vedo sempre lo stadio pieno e questo a noi giocatori non può che far piacere. Siamo molto contenti, adesso sta a noi far mantenere questo entusiasmo alla città, ai nostri tifosi e con le nostre prestazioni spero che possano venire sempre in un numero maggiore al sabato allo stadio. E anche in trasferta quanto vale? Ma in trasferta finora non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio, perché anche nella trasferta di martedì a Padova comunque erano presenti, a Cittadella tre giornate fa erano presenti. Quindi finora sono veramente da elogiare e spero che sarà così per tutto il campionato. Matteo, cosa ti ha lasciato l'esperienza dello scorso anno? Tantissimo, tantissimo perché comunque vincere un campionato e una Coppa Italia non capita tutti i giorni. Sono ancora giovane, quindi sicuramente mi ha fatto crescere tanto. Poi comunque ho giocato un bel po' di partite l'anno scorso e sicuramente sono cresciuto tanto. Forse è stato l'anno che da quando sono diventato professionista mi ha fatto crescere di più. Non si chiede, però io provo lo stesso. Ricordi più belli con Sander o con Pecchia? Ma con tutti, perché comunque con Sander abbiamo avuto anche l'esperienza dell'anno prima della salvezza, i play-out e anche quella è stata una grossa esperienza. Quindi porto dentro di me tutto, di ogni allenatore e con molto piacere. Ti ha driblato a dovere Aurora. Fantastico, sì sì, fantastico. Svegli questi giovani di oggi, vero mister? Anche perché se parlava male di Pecchia, poi lo chiamavo Pecchia dopo. No, ma non si può parlare male di Pecchia, era veramente bravo sia come persona che come allenatore, quindi è impossibile parlarne male. E beh, poi abbiamo visto infatti che, vedi, dove è arrivato, bravo mister. Sta lì a fare il secondo avvenite, chi l'avrebbe mai detto? Sta lì a scrivere. Tu l'avresti mai detto? Così? Non l'avresti mai fatto. No, non ti dico non l'avresti mai fatto perché certo che uno lo fa, che va a fare il secondo avvenite, no? Conoscendo me non lo so. Avresti detto di no a Benitez, attenzione che Pasquale Luiso avrebbe detto di no a Benitez. Sto scherzando, sto scherzando. Fabio ha giocato a Napoli, è stato il capitano del Napoli per tanti anni, ha avuto questa grandissima occasione, l'ha sfruttata e sono contento per lui. Com'è cambiato con gli anni il campionato di Serie B? Tu lo conosci molto, molto bene. Ma, scusatemi se ve lo dico, il livello è molto, ma molto, molto più basso. Di qualità di giocatori parliamo? Anche, anche. Perché? Ma forse prima c'era più tecnica, c'era più, adesso è un po' più forza fisica, più agonismo, prima c'erano più giocatori, c'era più, più… Però ora hanno più lunga vita i giocatori, adesso ti arrivano anche a 36, 37 anni, ancora che corrono… A 30 anni già dicevano che dovevo smettere. Ecco, infatti prima invece… Ho smesso a 36. E perché? Vabbè, tu… Perché non ce la facevo più. Non ce la facevi più. Però, sicuramente il livello è molto, molto più basso. Non sto qua a dirlo io, sono io i numeri che parlo, anche perché 5-6 anni fa in Serie B passavano fiori di giocatori. Però, è normale, gli anni passano, è giusto che sia così. Però, se mi chiedi rispetto a quando ci giocavo io, sicuramente il livello si è abbassato. E perché secondo te questo livello si è abbassato? Da che cosa è dovuto? Ma è dovuto… Ma pure a parte, pure sti cambi di modulo così, adesso va di modo sto 3-5-2, 3-5-1-1, 4-3-3, magari prima ecco… Vedevo spesso, spesso, quasi sempre giocare sto 4-4-2, quello ti mettevi a specchio, chi era più, diciamo così forte, chi aveva più, la squadra più organizzata, riusciva a venirne fuori. Adesso forse pure per questo un po' si pensa più a giocare con queste 3-4-3, 4-3-3, 5-3-2… A pensare alle tecniche che le tattiche, che è lo spettacolo, che nemmeno lo spettacolo, chiaramente. Perché i gol belli come i tuoi… Pure voi giornalisti, andate in tribuna, la prima cosa che fate è che come gioca, 4-3-3, 5-3-2, e criticate subito, no? Sì, perché voi allenatori poi ci insegnate, perché ho la fortuna poi di stare a contatto con molti allenatori, ci insegnate che non è il modulo che fa la squadra, giusto? Anche, sono loro, alla fine gli intempi sono loro, sono i calciatori, sono loro che ti fanno vincere. Andiamo a leggere qualche messaggio, vediamo cosa ci state scrivendo da casa. Intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, 3-3-1-12-45-625. Sabato il Brescia, non è sceso in campo, non illudiamoci, questa partita non fa testo. Forza Latina, la prima vittoria è arrivata, adesso avanti con più tranquillità, meno male un messaggio un po' più positivo. Forza Latina, continuiamo così, ciao da Luca. E un saluto al gladiatore Matteo Bruscagin, sabato a Tramati per altri tre punti. Grande Matteo, sempre nei nostri cuori, vedi come sono riconoscenti a Latina, forza Latina. Un grande Latina, un grande pubblico ed un grande signore Breda. Cioè scrive Pielu, è un programma così interessante e obiettivo non poteva che avere la conduttrice... Grazie per questo messaggio. Però finisci dal messaggio. Non posso, non posso, perché poi è un'auto... Non posso, ragazzi. Un saluto al grande Pasquale Luiso, ti vogliamo presto in panchina. Confermiamo, infatti l'ho presentato così, il mister. Allora vediamo insieme, ragazzi, gli altri... Devi sapere che quel signore lì che è a Latina, che è un grande giornalista, che è veramente tanto di cappello a Domenico Eppoliti, ogni volta che parla, ogni volta che proferisce parola, lui ha gli alti e bassi. E quindi il Luedi si presenta con questi alti e questi bassi. Però che cosa ha fatto? Oggi ha mandato solo gli alti. Allora ho chiesto, Domenico, ma i bassi dove sono? No, non ci sono bassi perché è stato veramente difficile trovare un giocatore dell'Atina che ha giocato male. Giusto? Confermo, confermo. Mi hai messo in difficoltà questa volta, Aurora. Perché, Domenico? È perché non ho trovato giocatori che hanno reso sotto la sufficienza, insomma. Però una parte di bassi l'ho riservata a qualcuno ugualmente. Sì, lo so che l'hai riservata a qualcuno, però vediamo gli alti. Mister, se tu non sei d'accordo, puoi anche contraddire. Primo è Jonatas, autore del secondo gol, del gol della vittoria. Perché? Perché ha fatto reparto da solo. È stato veramente il giocatore in grado di dare peso, sostanza, riferimenti. Non era al top della condizione, però ha giocato con grande impegno, grande spirito di sacrificio. E si è presentato veramente al pubblico del Francioni dopo una prima apparizione nella quale non era nelle condizioni. Si è presentato nel migliore dei modi al pubblico del Francioni. È uno che insieme a Ghezzal può veramente regalare il salto di qualità a questa squadra. L'impressione è che si sia ambientato anche, perché rispetto alle ultime uscite era un po' un pesce fuor d'acqua. Era un po' come Close per la Lazio, un uomo solissimo lasciato lì. È vero? Si è ambientato? Magari esplodesse come Close, andrebbe benissimo, insomma. Close segna, eh? Sì. Adesso, però, all'inizio era un po' come Gionatas, un uomo solo. Vediamo il secondo. A te piace Gionatas, mister? È un giocatore da recuperare. Questo è un giocatore che a Brescia ha fatto bene, bene, bene. Se lo recuperano, questo è un giocatore che può tranquillamente fare i suoi 13-14 gol. Andiamo nel reparto difensivo. Giuseppe Figliomeni. Sì, mi è piaciuto l'impatto sulla gala. Lui è subentrato a Esposito, veniva da un periodo di inattività. Ha avuto anche un infortunio. Eppure è entrato subito in partita, ha fatto subito benissimo le retrovie e poi ha confezionato quel cross con quel delizioso stop che ha innescato la rete di Morrone. Sicuramente è un innesto importante. Non me ne voglia il buon Matteo, insomma, ma lì dietro veramente la concorrenza è agguerrita. Poi, tra l'altro, sta rientrando anche De Giosa, quindi veramente Breda non ha che l'imbarazzo della scelta lì dietro. Invece Domenico Esposito come sta? Quando rientra? Esposito è un problema ad un polpaccio. Oggi ha lavorato a parte. Vedremo già domani come si pronuncerà lo staff. Andiamo avanti. L'ultimo degli alti. Ah, abbiamo messo Stefano Morrone al suo secondo gol, se non sbaglio, in maglia nero-azzurra. Eh sì, questo è un po' il simbolo di quel discorso legato agli inserimenti, rappresenta proprio questo, la possibilità di dare imprevedibilità alla manovra offensiva, di regalare all'unica punta centrale delle alternative. E Morrone in questo è molto bravo perché sa trovare lo spazio, il tempo giusti e anche sabato ha dato dimostrazione, insomma, di saper incidere anche in fase di realizzazione. Poi con la sua esperienza, il suo carisma, sicuramente al centrocampo è molto, molto importante. Ecco, mister, Morrone ad esempio è ancora un ragazzino. Per come corre, per come si muove. No, 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 nonostante... Il gol che ha fatto, l'inserimento che ti dicevo, ha fatto un gran gol. È un giocatore esperto, un giocatore che fino a un mese fa era a Parma, ha vinto diversi campionati, viene dalla scuola di Guidolin, è un giocatore pieno di esperienza e può ancora fare la differenza. Diciamo che sulla carta latina è stata costruita ad hoc. No, per me... È un mix perfetto. È una buona squadra, è stata sfortunata. Poi adesso, ecco, con i rientri di questi due o tre infortunati, secondo me è una squadra che si può salvare tranquillamente, dai. Sì, nonostante questa partenza un po' lenta, però in Serie B tu mi confermi che bisogna saper soffrire, no? No, no, in Serie B vinci due o tre partite e ti ritrovi subito nel gruppone, così. Però è una squadra che non può retrocedere assolutamente, dai, non scherziamo. Cosa ha bisogno avere una squadra in Serie B per poter proseguire in tranquillità il campionato? Eh, deve avere uno che lì davanti ti mette la palla dentro. Jonathan, me lo auguro, perché ci vogliono i gol. La prima cosa in tutti i campionati, se trovi la bocca di fuoco là davanti, che ti fa dai quindici, non dico venti gol, però, una quindicina di gol, sicuramente. E poi la solidità della difesa. Se non prendi gol, io, il fatto che Breda non vinceva, io da allenatore, nel senso, posso pure pensare che sta facendo bene, perché intanto non vinci, ma non perdi e non prendi gol. Breda stava facendo così, col 3-5-1-1, stava iniziando magari a produrre qualche cosa. Adesso è arrivata la vittoria, adesso magari sicuramente non bisogna saltarsi, perché poi il Brescia, sicuramente, mettiamo pure il fatto che era un pochettino pure scossa dal fatto di Giampaolo, non è che abbiano trovato il Brescia in palle, perché un giocatore come Caracciolo, che non ha mai strusciata, sicuramente non è normale, anche se con la bravura dei difensori della Latina, ma sicuramente è una squadra, secondo me, che si portirà fuori tranquillamente. Allora, andiamo a vedere tutti i risultati della settima giornata nel torneo cadetto. Intanto vi ricordo l'anticipo delle ore 19, tra Avellino e, scusate, Empoli, ha finito 1-0 con l'Empoli che ha mancato l'aggancio in vetta, e contro questo Avellino, dove ha segnato Galabinov. L'Avellino-Avellino, che ricordi ci sono dell'Avellino? Facciamo questa parentesi con te. No, ti dicevo prima, io l'ho vista infrasettimanale a Pescara, dove ha lasciato due punti al Pescara. Io ero lì in tribuna con degli amici, ha lasciato due punti in tribuna lì all'Adriatico, perché ha fatto un secondo tempo, avrà creato 5-6 palle gol. Bene, bene, bene. Ecco, il classico Rastelli gioca oltre 5-2, perché ha due attaccanti potenti davanti, veri. C'è Soncini, c'è Castaldo, c'è Galabinov, Galabinov, che ha segnato questa sera. Sì, ha segnato questa sera. E poi anche Zappacosta, che tu conosci bene, no? Sì, sì, sicuramente. Ecco, quel 3-5-2 mi è piaciuto tanto, ha fatto una grandissima gara. E non mi sorprende il fatto che ha battuto l'Empoli, perché è veramente organizzatissimo, l'ho vista, e faccio il complimento a Rastelli, perché veramente ho visto una squadra organizzata, che sa quello che deve fare. E niente, poi ecco, il fatto di Zappacosta... Sì, è una, diciamo, delle sorprese, una di quelle squadre che nessuno si aspettava che poi facesse questo esploi, come ad esempio Lanciano, che ha battuto anche il Bari. Ci sono state tante vittorie interne sabato, per quanto riguarda la settima giornata. Cesena Pescara, invece, è il posticipo di questa sera. Siamo ancora sullo 0-0, la partita non è finita. Quali di questi risultati ti ha stupito di più, mister? Ma ha stupito pure il Varese. Mi ha stupito il Varese da 0-1 a 2-1. Il Varese è una squadra da tenere da occhio. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Il Varese sta facendo molto molto bene, con un allenatore, se non sbaglio, al debutto in Serie B. Poi la vittoria del cittadello col crudone veniva da tre vittorie consecutive. Il Modena contro il Padova. Padova dove Marcolin ci ha rimesso la panchina. E' stato segnato Marcolin. E' arrivato Mutti al suo posto, così come Maifredi. Poi dopo la partita del Brescia non ha avuto nemmeno il tempo di potersi riscattare con un'altra partita, perché il presidente Corioli ha deciso di cambiare e quindi di affidare la squadra ad un uomo esperto. E quindi ora vedremo se il Padova si riprenderà. Parleremo di Juve Stapia? Te l'aspettavi la prima di Iachini? Assolutamente sì, una squadra di livello superiore. Una squadra pazzesca e che non me ne voglia Gattuso. Per me questa è una squadra che farà il vuoto, perché è di un'altra categoria. Mentre Azzori rischia qualcosa dopo il K.O. con il Carpi in casa? Forse questo, il risultato che è sorprendente è questo qua, il due del Carpi, magari dopo aver perso malamente Trapani, si aspettava sicuramente qualche signo in più da parte della regina. Anche se sembra che ci sia stato un incontro proprio nelle ultime ore, Foti e Azzori si siano accordati per continuare questo progetto insieme. A te invece Matteo qual è il risultato che ti ha stupito di più in questa settima giornata di campionato? Sicuramente l'ennesima sconfitta del Padova non lascia indifferente, perché comunque è una squadra costruita per altri obiettivi e si ritrova ultima in classifica con un punto, quindi questo è un po' sorprendente. Poi anche la vittoria del Cittadella, come diceva il mister prima, sono partite strane comunque, perché ogni giornata c'è sempre qualche sorpresa e come dicevo prima, tutti possono vincere con tutti, quindi penso che sarà proprio un bel campionato. E intanto a Brescia è arrivato Bergodi, è ufficiale, quindi che sostituirà Maifredi e prima ancora Giampaolo, Giampaolo che è andato via, anche tu sei andato via in quel modo come è andato via lui? No, non sia mai, oggi lasciare il posto. Assolutamente no, poi non so le questioni quando riguarda il Brescia, perché Giampaolo ha preso questa decisione, io non so adesso i problemi che ci sono stati, so della contestazione, so che un colloquio con i tifosi forse non so se l'hanno spinto all'ambasso. Però le contestazioni sono all'ordine del giorno, deve essere in un certo qualche altra cosa. Ma non so, magari avvicinandosi ai tifosi gli hanno detto che ne devi andare, io adesso non lo so cosa sia successo, anche perché Giampaolo non vedeva l'ora di rientrare, perché erano un po' di anni che lui, non è che stava facendo benissimo, veniva da un po' di esoneri. Però mister, facciamo questa considerazione, Bergoti è arrivato a Brescia, Iachini a Palermo al posto di Gattusio, Bortolo Mutti è arrivato a Padova, stanno andando fuori moda, ci stanno mettendo da parte. E i giovani e torna l'esperienza a questo punto? Ma i giovani sono in C, i giovani è pieno di giovani, stanno in Serie C, in B, e penso che poi alla fine se ti vuoi tirar fuori, ti vuoi salvare, lasciamo stare Breda, ma pure Breda ha la sua esperienza, ha fatto già due o tre anni di allenatore, ha fatto pure la via Vicenza, ritorno di Mutti, pure Mutti era fuori da tanti anni. Però comunque l'esperienza ce l'ha. Iachini, parliamo di Iachini, Iachini ha vinto tre campionate negli ultimi anni, non era l'ultimo ruolo del carro. Appunto, sembrano i presidenti preferire tutto un tratto l'esperienza al giovane, la bandiera. Se vuoi vincere, se vuoi vincere, devi puntare sicuramente su qualcuno che ha fatto qualcosa, Iachini ha fatto qualcosa. Gattuso era una scommessa, a dispiace per Gattuso, era una scommessa di Zamparini, del direttore, anche se io penso che alla lunga, però sono piazze che non ti aspettano, sono piazze che vogliono subito i risultati, sono convinto che alla lunga Gattuso avrebbe fatto bene a Palermo. Quindi basta sempre sapere aspettare. Eh, ma lì sono piazze che devi fare risultati, devi vincere e basta. Domenico, torno all'esperienza quindi in Serie B. Beh, direi di sì, sono d'accordo con mister Luizio, insomma, gli emergenti sono in Lega Pro, a quanto pare, per quanto riguarda le panchine, mentre la Serie B punta molto ad affidarsi all'esperienza, ad allenatori già rodati ed affidabili. Questo è il verdetto degli ultimi avvicendamenti ai quali abbiamo assistito. vedremo magari strada facendo chi sarà premiato anche in questo tipo di politica e chi invece potrebbe essere premiato per aver scelto la continuità. Una di queste è il Trapani, cara Aurora, che però arriva da tre risultati negativi. Io chiamo in causa Matteo anche perché lui a Trapani ha giocato l'anno scorso, ha dato in Coppa Italia, ha fatto anche un gol, quindi hai anche buoni ricordi riguardo a quel campo. Sì, buoni ricordi per quel campo, buoni ricordi anche per la partita di due stagioni fa in casa, che abbiamo vinto 3-0. Sicuramente vengono da un periodo negativo, sono partiti forti, adesso vengono da tre sconfitte di fila, sicuramente saranno motivati a far bene in casa, quindi ci aspetteranno un ambiente carico, un ambiente difficile. Sarà una partita tosta, perché comunque loro sono un'ottima squadra, l'hanno già dimostrato e non sono le ultime tre sconfitte che tolgono il valore alla rosa del Trapani. Questo successo però sicuramente vi aiuterà ad affrontarla diversamente rispetto alle altre partite. Ma sicuramente, comunque ci ha dato tranquillità, ci ha dato un'ulteriore consapevolezza nelle nostre qualità. Diciamo che era il passo che forse ci mancava per sbloccarci definitivamente, ora che ce l'abbiamo fatta siamo un po' più tranquilli, però sicuramente c'è da far molto, non dobbiamo cullarci di questo risultato perché sarebbe l'errore più sbagliato da fare. Ecco, Boscaglia però è un allenatore giovane e fa bene, sta facendo bene con il Trapani, oramai ha sposato il Trapani, rimarrà Trapani tutta la vita. Ha vinto più campionati unici che Allegri, ha vinto campionati. Boscaglia ha vinto dall'eccellenza, ha vinto due o tre campionati di eccellenza in Sicilia, poi ha portato il Trapani fino alla Serie B. Si è fatto le ossa con i campionati minori. Vincere i campionati è una cosa semplice, anche se arrivi dalle categorie, sicuramente fai esperienza. E tu l'hai vinto però il campionato. Io l'ho vinto ma sta a casa. Vabbè, sta a casa però arriverà a vinto. Beh, pure io avevo in testa un... ecco, di lavorare... Che poi tu l'hai vinto anche in maniera molto sofferta quell'anno perché ti ricordi lo spareggio con la luce. Però la mia scelta era quella, quella di iniziare qualche società. Il Sora mi ha dato l'opportunità di poter partire, facendo pure bene, però io cercavo... Il Sora, alla fine, sei partito da lì, quindi Sora per te... Oramai sei Sorano, io lo dico. Oramai sei Sorano, però ti ricordi anche le altre piazze, quali maggiormente? Di quando giocavi? Sora mi ha lanciato, poi... Con Di Puccio. Con Di Puccio allenatore, poi... Che poi non tutti sanno che tu partivi da esterno, invece Di Puccio ti mise come centroavanti, ti cambiò posizione. Era una alla destra, diciamo così, la vecchia alla destra. Ah, ecco, come la vecchia alla destra. Nel 3-5-2. Nel 3-5-2. E poi hai un figlio che invece, pensate, il figlio di Pasquale, Luiso, non è un attaccante, Alessio, ma è un terzino. Sì, lo stanno provando a terzino sinistro. Ma lui si ricorda quando papà giocava? Lui era piccolissimo, gli ultimi anni che ho fatto io, l'ultimo anno che ho fatto in Serie Ancona, lui era piccolo, c'aveva due anni. Però di questo gol, noi abbiamo qualche gol, abbiamo ad esempio il tuo gol... Ogni tanto va su YouTube e si guarda... Ecco, e magari si guarda questo gol del 3-2... No, questo non tanto, se lo guarda... Hai battuto il Milan. Lui è tifosissimo del Milan. Ecco, ah, vedi, qui hai beffato la sua squadra fantastica. Che atleticità, mister, che atleticità. Hai lanciato... Allora non ammoniva, no? Hai lanciato la maglia. Allora mi sembra che si ammoniva, ma adesso lo ricordo bene. Si rimane senza fiato con questo gol. Eh, ma poi non c'era nessuno che mi marcava lì, c'era Baresi, Maltini. No, infatti, non ho nessuno. Anche Domenico Eppoliti è del Milan, tu la ricordi quella partita? Anche Matteo, eh. E Matteo è scuola Milan. E Milanista, è tifoso anche. Tifoso è scuola Milan, pure io sono milanista, penso un po'. Anche tu sei milanista? Eh, ma quella è una fasciata, la volevo buttare fuori, poi andata dentro. No, non ci credo, non ci credo, mister. E qual è il... C'è un gol che tu ricordi particolarmente? Ma fanno vedere tutti questo, gli altri 250 anni che ho fatto quest'anno. Appunto, perché sono tanti, tu dovunque sei andato hai sempre... No, sicuramente questo è quello che mi ha portato un pochettino più alla ribalta, diciamo così. Anche poi dopo questo gol sono stato tre mesi senza fare gol. Mi hanno dato talmente... Ti stavano chiedendo proprio l'astinenza. Accampato di rendita. Ti capitava? No, talmente di quelle gufate mi hanno dato dopo questo gol che non riuscivo più a vedere la porta. Che poi per un attaccante è la cosa... Eh sì, un periodo... Sì, dopo quel gol sì, e poi mi sono fatto male. Se non ti sblocchi, non vivi? Mi sono sbloccato dopo... Sì, sembra tre mesi, quattro mesi. Sì, con la Fiorentina in casa mi sono sbloccato. Senti, esperi che Alessio, tuo figlio, possa cambiare ruolo pian piano e diventare come te? Non lo so, lui gli piace far gol. Solo che, sai, a Frosinone, lui è con la scuola calci del Frosinone, lo stanno provando a terzioni sinistra. La sera mi guarda e mi fa, ma perché? Ma perché? Dice, io voglio far gol. Però va bene lì. Evidentemente il mister lo vede bene lì. Tanto è piccolo, ha 11 anni. Non è che c'ha un ruolo già fesso. Ma magari con il vezzo del gol potrà crescere, no? No, ma si sposta un pochettino più avanti. Mua parte bassa, poi magari aumenta un pochettino e magari lo mettono alto. Anche Matteo ha un terzino. Matteo, tu nasci terzino? Ma ha sempre fatto un po' il terzino, un po' il centrale, quindi... Sono sempre diviso tra i due ruoli. Però sempre difesa? Mai pezzata piccolino? Tra i cinque del centrocampo lo scudiamo, Matteo? No, no, posso fare anche il quinto di destra o il quinto di sinistra, non ho problemi. L'ho già fatto in passato e non avrei problemi a rifarlo. È importante che rientra. Infatti, infatti. Mi sta dicendo che è importante che rientri, giustamente. Vediamo se c'è ancora qualche messaggio da leggere. Siamo in chiusura. Vi ricordo il numero 331, anche se siamo veramente in chiusura. 1245, 625, poi voi continuate a scriverci. Grande Matteo Bruscagin, Latina ti ama. Il lavoro di Mr. Breda inizia a dare i suoi frutti. Forse Euteri era veramente il problema? Tolta Brescia, Sforzi Padovani. Questi sono i messaggi che ci scrive un nostro telespettatore che scrive delle cose che lui, penso, si impegni tantissimo. Vediamo, il lanciano dice... Mamma mia, la porca mia. È un poeta. Sì, è un poeta, Lele. Auditori di Fiuggi. Forza ragazzi, avanti così. Un saluto a Domenico e Politi, sempre sul pezzo, confermo. Vai Pasquale, cresca sempre alta. Forza Milan. Grazie per i complimenti, chiaramente. Il Rai, sì, sicuramente. Grande Pasquale, i tifosi del Toro, non ti dimentica, i tifosi del Toro qui nel Torino? Penso che sì. Ah sì, saranno nel Torino. Anche se nessuno ti dimentica, perché quando si sente Pasquale Luiso nessuno ti dimentica, nessuno dimentica poi quei gol. Ah, vedi, abbiamo anche gli altri gol. Perché facevi questo gesto, mister? Questo è un gol che ho fatto a Londra contro il Chelsea. E perché hai fatto questo gesto? La semifinale delle Coppe. È brutto il gesto, stati... Contro Vialli. Mi avevano fischiato un pochettino lì. Ah, ecco. Ma tu hai ricattivo anche in campo, mister. Perdiamo 3-1 lì e uscimo fuori. Senti, ma menavi in campo? No, mi menavano, però mi facevo sentire pure io. Eh, infatti io ricordo qualcosina, ecco perché l'ho detto. Diciamo che, Matteo, sarebbe difficile per te marcare Luiso? Bene, anche facile. No, adesso sì. Adesso sì. Va bene, allora ragazzi, noi siamo in chiusura. Matteo, noi speriamo di vederti presto come titolare perché facciamo sempre il tifo per te e perché comunque nessuno dimentica le tue gesta dello scorso anno e della storica promozione in Serie B. Domenico, salutami con il pronostico di Trapani-Latina. Guarda, a me starebbe bene un bel pareggio. Quindi continuiamo con un po' di pareggite. Continuo a sposare la politica dei piccoli passi. Mister, a Trapani è un campo difficile. Sì, beh, vengono da tre sconfitte consecutive, è una partitaccia, però niente, io penso che la possano giocare, anche se, l'ho detto, è un campo molto difficile, ci hanno perso già in tanti, però Latina può portare via qualcosa di importante. E vediamo qui il quadro completo dell'ottava giornata, la sfida più insidiosa secondo te? Mi sto guardando, dammi tempo. Forse Brescia-Palermo, Avellino-Bari. A Cesena anche. C'è il Cesena dove va? Cesena-Siena è una bella partita. Cesena-Siena, sì. Pescara-Spezia. No, 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 Padova-Varese. Non c'è l'imbarazzo della scelta. C'è la Spezia, c'è il mister che ritorna all'Adriatico. Tu vai a vedere spesso il Pescara, tra l'altro, questo Pescara di Marino com'è? Non riesce a decollare? Non l'ho visto bene, contro l'Avellino non l'ho visto bene. Secondo te sarà il prossimo cambio di panchina? Mi auguro di no, io non auguro mai il male ai colleghi. Però ci sta, mister, nel calcio è questo. Se mi chiamano a medico, sì, ma sicuramente non mi chiamano. In questa estate sei stato vicinissimo dal prendere la primavera del Pescara. La primavera del Pescara, poi hanno preso Giampaolo ed è saltata. Perché diventa sempre più difficile. Diventa difficilissimo. Perché non si riesce a trovare panchina, secondo te? Ma non si riesce a trovare panchina. Bisogna insistere, bisogna insistere. Io poi sono uno ambizioso, non è che mi accontento. Sto cercando di trovare qualche Lega Pro, qualcosina in interregionale, oppure qualche approccio, qualche squadra. Però non è che mi soddisfa, non è la cosa che mi piaceva tanto. Però ho detto io, mi auguro di entrare più presto nel mondo del professionismo. Non è facile, perché ne siamo in tanti. Però sono in fila, mi sono messo in fila, capito? In fila per rimetterti in gioco, vedrai che presto la troverai. Io ringrazio Matteo, tu quando vuoi qui lo sai che sei sempre il benvenuto. Va benissimo, grazie a voi della serata. Grazie a Domenico Ippoliti. Grazie a voi, un saluto. Poi mi spiegate perché ridevate prima dietro le quinte? Di che cosa stavate ridendo? Prima di iniziare vi vedevo ridere. Ridevamo? Sì. Poi te lo spiegherò. Non lo possiamo dire a telecamere accese. Restiamo in incontro. Vabbè, telecamere spente. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Ciao, grazie. Grazie per la tua presenza qui, vieni a trovarci presto. Grazie a voi. Grazie a Pasquale Luiso, grazie a voi per averci seguito. Vi do l'appuntamento a Bordocampo Lega Pro domani sera alle 21.15, sempre su Teleuniverso. Mi raccomando, non mancate. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.